Ernesto Starita anche per te insomma ho visto che c'è stato qualche consiglio del mister Gattuso molto forte sì sicuramente mi chiede sempre di sbagliare meno la prima palla che ho toccato un contrasto aereo sbagliato poi subito mi sono ripreso e ho cominciato a giocare come so Partita strana risolta indubbiamente da Nascio Varela ma anche dall'ingresso in campo tuo quello di Peralta però fino a quel momento avete sofferto molto sì sicuramente non è stata una delle nostre migliori partite questo è vero però nonostante ciò siamo riusciti a riprenderla questi sono segnali forti che noi stiamo dando che siamo una squadra forte abbiamo un carattere non moriamo mai quello che ci chiede il mister sicuramente commentiamo degli errori e da quelli dovremmo imparare a sbagliare sempre di meno ci correggeremo e si può fare solo meglio però siamo una squadra dal gran carattere anche se oggi stiamo giocando non una delle nostre migliori partite poi dopo siamo riusciti a riprenderla e a portarla a casa Allora e alla cosa avete detto che l'ho spogliato io? No abbiamo detto niente perché attenti poi si monta la testa è il guacin così ci chiamiamo io e lui Guacin e niente sono contento perché sta segnando con continuità poi fa delle prestazioni eccellenti ed è un ragazzo d'oro è un ragazzo d'oro è un ragazzo d'oro